ben ritrovati ben ritrovati a tutti è martedì 30 agosto del 2022 e quindi siamo arrivati realmente alla fine del mercato tre giorni ora si enrico boiani lo puoi dire siamo a tre giorni dalla fine del mercato ciao giorni del condor ciao ciao buongiorno ora lo possiamo ben dire siamo veramente entrati negli ultimi tre giorni e con un nome su tutti ovvero quello del centrocampista ne parleremo tra poco ma insomma la stretta realtà ci chiama a fare un piccolo passaggio precedente rispetto al mercato perché secondo il financial time domani c'è il closing e quindi oggi in realtà è l'ultima giornata del fondo Elliot come proprietario del Milan è l'ultima partita quindi del fondo Elliot come proprietario del Milan insomma siamo alla fine di questo Sassuolo Milan che ritorna la storia di Elliot delle decisioni dei cambiamenti dei punti chiave dei momenti chiave no ricordiamo quel Sassuolo Milan della conferma di Pioli insomma conferma anche a permanenza poi di Maldini e quant'altro con poi il Sassuolo Milan di qualche mese fa che ci ha portato lo scudetto fino al Sassuolo Milan di stasera ore 18.30 che appunto sarà forse chi lo sa l'ultimo della gestione della gestione Elliot fatto sta che questo benedetto closing che per tutta l'estate e dato che siamo obbligo per tutta la sessione di mercato abbiamo detto come un speriamo che dopo il closing si possa fare qualcosa di più non si spende troppo perché ci deve essere il closing eccetera eccetera speriamo che possa essere di di fatto così cioè che quando arriverà poi la nuova proprietà sia da gennaio ma io immagino più più inconsistenza poi nell'estate prossima si possa avere diciamo più margini di manovra ovvio non devi stravolgere il tuo modo di lavorare non verrà fatto lo sappiamo perché abbiamo anche fatto un podcast su come lavora Redbird e non è troppo distante da quello che faceva e ha fatto Elliot però almeno avere magari un pochino di margine in più di libertà in più e alzare un pochino l'asticella cioè fare la cosa che hai fatto e che stai facendo però con una disponibilità dato che Maldini ha usato questa parola nell'intervista dopo i sorteggi della Champions una disponibilità diversa ecco guarda proprio mentre stavi parlando mi è arrivato un messaggino da fonte molto interna che mi dice è probabile ma non certo è ormai il closing però quando si usano queste queste frasi insomma dove si lascia un po' la porta aperta ma è semplicemente per non dire sì di solito attendiamo conferma ufficiale ma Elliot comunque rimarrà sotto molti punti di vista insomma come ci siamo anche detti già nel recente passato in realtà non sarà una linea spezzata sarà una linea continua questa con tra tra Elliot appunto e Redbird sulla sulla gestione del Milan ovviamente con magari delle potenzialità di potenzialità diverse delle conoscenze anche magari diverse del della della parte sportiva a proposito di questo Henry ti vado a leggere quello che ha scritto appunto il Financial Times su chi saranno i prossimi investitori del Milan insieme a Redbird e come andrete a vedere a capire in realtà proprio di mondo sportivo e entertainment si parla perché leggo dal Financial Times la franchigia di baseball dei New York Yankees è un fondo di investimento di Los Angeles stanno investendo nel Milan insieme al gruppo di private equity statunitense Redbird la squadra di baseball di proprietà della famiglia Steinbrenner e Main Street Advisor il fondo con sede Los Angeles che ha 9 ore tra i suoi investitori star del basket e qui lo sapevamo già Lebron James e il rapper Drake eccetera diventerà nazionisti della squadra di Serie A e quindi secondo l'ingresso sarà previsto già per mercoledì stiamo a vedere come sarà la faccenda tra l'altro c'è un piccolo passaggio interessante cioè questo gli Yankees lavoreranno a stretto contatto con il Milan mentre Cardinale cercherà di aumentare i ricavi del club rosso nero e successi sul campo parte della collaborazione potrebbe includere la programmazione del Milan su Yes Network rete sportiva regionale di proprietà di un corsorso del club Yankees Amazon, Redbird e Sinclair Broadcaster Group poi la rete commerciale esistente di Cardinale, di atleti e celebrità ha contribuito appunto a facilitare l'ingresso con Main Street ovvero quel fondo di investimento di Los Angeles e quindi insomma Henry, siamo all'inizio probabilmente della terza, quarta era nel giro di sei anni, sette anni sei anni, sì sì, poi vedremo Lebron James che twitterà anche per le finali di Champions del Milan e non solo per quelle del Liverpool perché lui ha una certa durante l'anno si va a vedere una o due partite del Liverpool e twitta direttamente dallo stadio no, scherzi a parte, sì cioè c'è tanta carne al fuoco potenzialmente tanti attori protagonisti e non sulla carta se ascoltiamo i nomi e solo i nomi perché ad oggi questo possiamo fare diciamo che sono nomi molto altisonanti molto importanti del mondo soprattutto statunitense tra entertainment, sport e quant'altro quindi io sono fiducioso ecco per quello che ho sentito poi sarà tutto a loro lavorare e bene ecco e quindi Henry lo lasciamo un secondo da parte ora la questione closing perché insomma oggi è uscita la notizia ma in realtà è nel caso domani la giornata visto che insomma come era successo un po' l'altra volta nel corso dei vari cambiamenti di allenatori gestione tecnica eccetera Sassuolo Milan rischia di essere quasi una sorta di di contorno di quello che succede in questi giorni e non è così e non è così assolutamente visto che il Milan torna in campo da primo in classifica e lì deve rimanere in vista del derby a proposito di questo tra poco magari facciamo anche un piccolo passaggio sulla probabile formazione visto che ieri sono stati sono stati comunicati due stop da parte di due attaccanti del Milan però essendo questo obbligo di riscatto facciamo un passaggino sul mercato Henry ovvero il Milan è in attesa della risposta su Branks che dovrebbe arrivare già tra oggi massimo domani anche perché se non è il 30 è il 31 e l'1 chiude e quindi si attende la risposta per il prestito con diritto oneroso 1 più 11 dovrebbe essere totale 12 sì direi che siamo al dunque direi che il giocatore ha già espresso la sua preferenza per il Milan rispetto ad altri club con riferimenti puramente casuali e quindi la speranza è quella di chiuderlo è un giocatore molto interessante è giovane capitano dell'under 21 se non sbaglio belga una stagione discreta comunque col Wolfsburg qualche presenza in Champions League qualche magari problema tra virgolette a fine stagione in cui ha giocato molto meno un centrocampista che molti paragonano al primissimo Witzel cioè un giocatore molto fisico piuttosto fisico ma comunque anche tanto esplosivo e con il vizio del gol però ecco è molto più simile a un giocatore tipo Renato Sanchez che Onana Onana era il mediano puro idem Matarsar che tra l'altro se non sbaglio sta andando alla Cremonese giusto? è una buona possibilità non è ancora fatta è un po' complicata ma vediamo quelli erano e sono mediani puri fatti finiti ma anche se è più un interno di centrocampo ecco che potrebbe fare anche la mezzala però aspettiamo la risposta le cifre sono quelle che hai detto prima e vediamo Henry facciamo una chiusa appunto su Sassuolo Milan perché la probabile formazione che immaginavamo fino a 24 ore fa circa è andata un po' nel 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 dimenticatoio non si può più raccontare breve passaggio quindi sugli 11 probabili con Magnani in porta Florenzi Simon Kier che anche qui Sassuolo Milan diciamo fa da da spartiacque di un nuovo ritorno quello di di Simon con Ficaio Tomori al suo fianco quindi turno di riposo per Pierino Carlo Lu a sinistra Teo Hernandez non riposa nemmeno quando dorme in mezzo al campo ne ho papà da poco quindi ovvio che non riposi abituato abituato in mezzo al campo c'è Tommaso Povega insieme a lui ci sarà Isma Benasser quindi riposa Sandro dovrebbe riposare appunto Sandro anche perché come ci siamo detti l'altra volta avendola fatta tutta Sandro ed essendo uscito al 60esimo o 70esimo circa Isma Benasser si era intuito quale dei due potesse fare la tripla idem con era uscito e quindi riposa Calulu esattamente davanti chi aveva finito la partita Raffaele Auri via Giroud che infatti dovevano riposare questa giornata e invece no e invece no perché gli infortuni di Orighi e di Rebic li costringono a giocare quindi a sinistra va Leao davanti va Giroud dietro di loro dovrebbe esserci Brain Diaz mentre a destra turno da titolare per Alexis Salmaker se ci pensiamo tolto Giroud perché c'era Rebic e il Milan delle 11 10 11 quante partite erano vittorie barra risultati utili consecutivi dell'anno scorso d'inizio stagione sì sì più o meno è all'incirca per Milan lì sì sì all'incirca quindi siamo fiduciosi ovvio che fa quasi strano non vedere già subito De Chietelare di nuovo confermato dopo la bella partita di di sabato ma sabato sempre prossimo c'è un'altra leggerissimamente più pesante di partite quindi poi portano tutti e due tre punti però ecco in tutti i sensi anche perché dovrebbe diluviare e quindi probabilmente è un po' pesante beh diluvio derby quinta giornata Harry noi ci ritroviamo alle 10.30 con Chiamamilan quindi sull'altra piattaforma per fare due chiacchiere in più su partita mercato e appunto ipotesi di closing già domani poi alle 13 c'è l'anjepress come al solito non c'è il talk alle 16 ma ci sarà alle 17.30 già il pre cioè il pre di Sassuolo Milan poi come al solito due ore dopo dall'inizio della partita quindi alle ore 20.30 parte il post partita sempre di Sassuolo Milan ovviamente Henry ciao e alla prossima ciao a tutti mi raccomando like commento qua sotto diteci la vostra sia sul closing che sul mercato che sulla probabile di Sassuolo Milan insomma scriveteci tutto ciò che volete qua sotto iscrivetevi se non l'avete fatto attivate la campanella per tutte le notifiche ciao ciao a tutti buona giornata perché c'è da vivere veramente una giornata molto intensa questa la prossima insomma sarà da stare insieme tanto ciao